Panotech è un'azienda italiana, un'altra eccellenza italiana con 30 anni di storia alle spalle. È della provincia di Treviso e al mio fianco ho il sales manager Luca Parlati. Luca, buongiorno. Buongiorno. Che cosa produce Panotech? Panotech è un'eccellenza italiana, siamo specializzati nella produzione di macchinari che fanno la scatola giusta, della misura giusta, nel momento giusto e soprattutto quando serve. Questo è un grande vantaggio perché permette alle aziende di evitare di sommergersi di scatoloni, delle misure più svariate per cercare di imballare quello che devono spedire. Il vantaggio è presto detto, con la nostra tecnologia si può coprire tutta l'esigenza di imballaggio con degli spazi ridotti. Abbiamo aziende che dedicano 1000 metri quadri, 2000 metri quadri per lo stoccaggio del cartone che non troveranno mai perché nel momento del bisogno si devono arrampicare nei cantilevel, si devono cercare la scatola per quel prodotto. Magari hanno troppe scatole di altre dimensioni, sono costretti a scegliere quelle e magari ritagliarle, aggiustarle con lo scotch e questo è una grave perdita di immagine e di serietà dell'azienda che si presenta al mondo finale, ai final user. Quindi voi servite tutti i settori volendo, tutti coloro che hanno bisogno di imballare in cartone? Assolutamente sì, i settori sono i più svariati, andiamo dal mondo del mobile, l'automotive, l'e-commerce, l'illuminazione, potrei dimenticare qualcosa. Siete trasversali decisamente? Assolutamente trasversali, Panotech non vuol dire soltanto la produzione della scatola ma la nostra tecnologia ci permette anche di gestire le protezioni, questo ci permette di essere definiti amici dell'ambiente, possiamo evitare di utilizzare plastiche e polistiroli perché è assolutamente 100% riciclabile tutto quello che riusciamo a realizzare. Quindi mi sembra di poter dire che voi aiutate le aziende a risparmiare tempo, a risparmiare spazio, a risparmiare soldi perché comunque utilizzano la macchina nel momento che ne hanno bisogno, tanti buoni motivi per acquistare una vostra macchina e liberarsi di quintali di cartone come diceva lei, inutilizzato magari. Hai centrato perfettamente il punto, lo spazio in primo luogo, riusciamo a efficientare la forza lavoro perché mentre prima della soluzione Panotech la gestione era affidata a un tot numero di personale destinato all'imballaggio, questo potrebbe essere reindirizzato in altri dipartimenti produttivi. Assolutamente il tempo, il nostro macchinario, la nostra tecnologia ci permette di realizzare la scatola che ci serve in qualche secondo, quantificabile in 5-6 secondi e soprattutto la parte economica che è quella che per prima viene toccata con mano dall'imprenditore. Pensate che il risparmio della sola materia prima può arrivare a un 50-60% in meno. Quindi sicuramente tante valide ragioni per utilizzare un vostro macchinario. Per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche, oggi vi troviamo qui ad Interpac. Quali saranno gli altri appuntamenti a grandi linee e quanto conta per Panotech il mercato estero? Il mercato estero pesa attualmente per Panotech, per dirla in percentuale, siamo intorno al 90%, anche se l'Italia è cresciuta moltissimo. Finalmente c'è stato un risveglio italiano, mi soffermo un attimo su questo perché per l'estero siamo considerati i leader di questo mercato, ma l'Italia grazie agli interventi, alla legge di stabilità, all'industria 4.0, alla legge Sabattini, permette di effettuare un investimento nella nostra tecnologia che è assolutamente autosostenibile per l'azienda italiana. Le fiere sono sicuramente il mezzo prediletto per la promozione della nostra tecnologia, non l'unico. Siamo presenti a tutti i principali eventi nel mondo dell'imballaggio, della logistica e dell'e-commerce soprattutto. Non so se sia possibile, possiamo fare qualche nome di vostri importanti e grandi clienti? Assolutamente sì, il primo fra tutti per Antonomasia è sicuramente il re dell'e-commerce che è Amazon. Nel settore dell'automotive siamo fornitori ufficiali del gruppo Denso, multinazionale del gruppo Toyota. Nel settore dei mobilieri sono praticamente tutti i nostri, nel settore dell'illuminazione la Philips, nel settore del web digital printing la Simpress, PixArt, Probo assolutamente. e quindi ho nominato l'eccellenza in quasi ogni settore. Va bene, grazie mille Luca e buon lavoro, andiamo a vedere le vostre macchine adesso. Io ringrazio voi e vi aspetto. Grazie mille Luca e buon lavoro, 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 e Grazie a tutti.